Il sistema di compostaggio di Brucazzi deve ripartire, ma Tocce e le due liquidazione non è più nelle condizioni di gestirlo. La posizione dei sindaci che fanno parte dell'ambito e della SRR4 è sempre più in direzione di un trasferimento di competenze di gestione alla stessa SRR per il tramite dell'inausi in pianti SRR. Lo conferma il presidente del CDA della società di regolamentazione Gianfilippo Bancheri che ha richiesto l'incontro tenutosi ieri in presenza tra gli altri sindaci di Geleniscemi, di Stefano Conti e il commissario lato lucisano, dei referenti di impianti e dei funzionali regionali del dipartimento. Ormai da tempo Bancheri e gli altri sindaci spingono per la chiusura della fase di liquidazione del lato e l'assorbimento degli asset da parte della SRR. È stato prodotto un documento in tal senso, come spiega proprio Bancheri, la questione ora va affrontata anche politicamente con un'assemblea del lato. I sindaci sono tutti concordi, secondo Bancheri, sul fatto che il sistema di compostaggio debba ripartire per produrre economie. La gestione però è un tema che va affrontato con attenzione. Bancheri è tra i primi cittadini che si sono schierati per superare la fase di liquidazione del lato, trasferendo tutto alla SRR. Lucisano ha sempre sostenuto che la piena titolarità dell'impianto di Brucazzi è diato sulla base inoltre di sentenze amministrative. Per Bancheri una cosa è la titolarità, altro invece la capacità di gestire un impianto molto importante. Il dipartimento sta monitorando il progetto per far ripartire a regime. Il sistema fermo ormai da almeno due anni e che doveva entrare a regime ad inizio 2024. Due danneggiamenti hanno bloccato il percorso per il presidente del CDA della SRR. L'impulso vero deve esserci con il passaggio di asset e rapporti direttamente ad SRR e impianti. Chiaramente si tratta di una vicenda sulla quale la politica dovrà assumere una visione netta. Il sindaco di Stefano, infatti, è sicuro che qualsiasi trasferimento debba passare comunque da una cessione dell'impianto di compostaggio e non può essere una procedura a titolo gratuito.